musica 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 ok questa non è una macchina stronzo ok buttalo nel bidone non posso corri 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 bello guarda che un mazzone grosso è proprio un boscaiolo vai per i cazzo è un contadino ma non mi ha sparato guardate che figata che roba entusiasmante hai corso 50 metri per far sta tronzando 9 km si è fatto per far sta minchiata non è una figata guardate è bellissimo è una roba che veramente ha fatto aspettare mille persone a vedere sta cagata guardate che figata la funeria si è una merda musica 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 ma sta parlando sto parlando ma stai stronzo e vai via tagli dentro io so che sei una donna ma mi guardi troppo male capito? ma cosa fai? ma cazzo ma cazzo ma cazzo devi controllare ma strano non è che puoi fare quel cazzo che vuole no 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 lui deve fare quel cazzo che vuole perchè mi sta regalando degli attimi di pura felicità musica a musica ma non possiamo affidarti l'amicizia su psm perchè noi che diffusiamo il computer chiaro Grazie a tutti!